Una volta entrato nel portale artisti clicca la sezione nelle tue mani 2023 e leggi i termini e le condizioni per partecipare al fondo. Clicca il pulsante prosegui, controlla i tuoi dati identificativi di riferimento e procedi a compilare le varie sezioni in cui dovrai dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente i contenuti del bando nelle tue mani 2023, di essere socio mandante diretto del nuovo IMAIE alle date previste, di avere compiuto 50 anni di età alla data del primo gennaio 2023 e di trovarti in uno stato di effettiva necessità, provvedendo ad allegare nell'apposito form il modello ISE rilasciato da una struttura riconosciuta per legge. A coloro che non hanno interpretato almeno cinque opere cinematografiche o cinque puntate di serie televisive, il sistema chiederà di confermare di aver interpretato almeno un'opera cinematografica, una puntata di serie televisiva allegando nell'apposito form l'attestazione di contributi relativi a quanto indicato. Successivamente bisognerà procedere a compilare le voci seguenti sulla reperibilità, sull'accredito del contributo e procedere a leggere le comunicazioni seguenti sottostanti. Una volta letto tutto il testo si potrà cliccare il tasto prosegui. Nella pagina relativa all'informativa della privacy, prima di poter cliccare la sezione, occorrerà necessariamente cliccare informativa del trattamento dati personali e procedere alla lettura integrale del testo in tutte le sue pagine. Una volta presa visione si potrà confermare cliccando l'apposita casella e spingendo il pulsante prosegui. Si accederà alla schermata di riepilogo dei dati della domanda con anche gli allegati relativi inseriti. A questo punto si potrà provvedere a cancellare la domanda o a presentarla. Cliccando presenta la domanda si accederà alla schermata di sintesi della domanda con lo stato di conferma che risulta inserita compresi anche gli allegati di riferimento.